I nostri punti di forza sono la qualità, l'altissima qualità del prodotto offerto, il fatto che viene preparato fresco ogni giorno e in base ai prenotati che abbiamo. Questo garantisce una freschezza assoluta, una qualità incredibile e un'attenzione al cliente pazzesca. Organizziamo periodicamente delle serate a tema, soprattutto nel periodo invernale stiamo proponendo le ramen, che è un altro piatto tipico giapponese, un brodo di carne di maiale, spaghetti di grano saraceno, verdure, uovo sodo marinato nella soia. Un piatto tipico, buonissimo, un piatto unico che scalda in queste fredde serate d'inverno. La nostra attenzione è rivolta molto al cliente che non è considerato come tale, ma è più un ospite. Il mama è e rimane una casa e quindi siamo molto orientati alla sua soddisfazione. Un caldo saluto a tutti, noi siamo ad Aosta in via Petiga 4, venite a trovarci, vi aspettiamo, ciao!